La zona arancione aveva riaperto la didattica in presenza fino alle scuole medie, ma l'aveva frenata al 50% nelle scuole superiori. Da lunedì 26 aprile invece si cambia. Ora il decreto riaperture, approvato mercoledì sera, riporterà gli studenti negli istituti superiori delle Marche al 70%. Una percentuale che negli ultimi giorni è salita e scesa come un flipper, dall'ipotesi del 100% con l'arrivo della zona gialla ad un più morbido 60%. 60% che era la soluzione più graduale e più gradita alle istituzioni regionali. Istituzioni che invece ora devono adeguare la macchina organizzativa al 70% rispetto alle precedenti previsioni. L'orientamento è per avviare questa ripresa con un 60% per due ragioni. Uno per prudenza è considerato che stiamo migliorando, ci dice l'Asur della regione, stiamo migliorando, ma comunque la necessità di un minimo di prudenza è consigliata dagli esperti e dalla sanità. E in più per consentire al servizio di trasporti di riuscire a portare contestualmente questa percentuale che laddove fosse necessario invece incrementarla, in questo momento comporterebbe questo incremento, la necessità di doppi turni che dal punto di vista organizzativo sono particolarmente difficili da realizzare. Sicuramente ci sarà un'apertura graduale, un'apertura graduale proprio per contemperare le necessità ovviamente di organizzative che il trasporto pubblico ad oggi ancora ha. Noi siamo pronti a ripartire, le scuole sono pronte a ripartire, ecco la riapertura sarà graduale, mano a mano che il trasporto pubblico ovviamente si organizzerà di conseguenza. È ovvio che comunque l'obiettivo è quello di ampliare sempre di più la percentuale. Noi abbiamo l'obiettivo di far ritornare in breve tempo tutti i ragazzi in presenza al 100% perché questo è l'obiettivo che abbiamo avuto sempre. È ovvio che dopo ci sono anche delle criticità organizzative e sappiamo che il settore dei trasporti è il settore quello più problematico.